Torna a Matera in diversi comuni lucani l'edizione 2024 del Gezziamoci tra le resegne più longeve del sud Italia. Un festival che negli anni ha moltiplicato le prospettive diventando una manifestazione itinerante e trovando in ambienti come giardini e terrazze un affascinante palcoscenico naturale. Parola d'ordine e contaminazione con artisti di calibro nazionale e internazionale pur preservando l'essenza lucana. Sarà un'edizione ricca, scoppiettante. Abbiamo fatto delle scelte artistiche insieme al presidente che rispetto agli anni passati sono anche molto più contemporanee, molto più vicine al moderno e con la grande presenza delle proposte emergenti di giovani formazioni che sono validissime dal punto di vista artistico e che meritano tantissimo spazio. Giusto per citare alcune nuove proposte che saranno con noi ci sarà il progetto di Miriam Fornari, Mora, che tra l'altro è una delle nuove produzioni discografiche dell'Onix Jazz Club. Come pure sarà da noi il quartetto del sassofonista Raffaele Fiengo che da poco è stato in studio con uno dei più grandi pianisti italiani ma internazionali che è Antonio Farao, quindi giovani ma nomi importanti. Nell'ottica delle proposte giovanili rientra anche il contest che ritorna quest'anno, la terza edizione dell'Onix Jazz Contest. Si sono chiuse le selezioni o meglio si è chiuso il bando di ammissione qualche giorno fa e abbiamo avuto numerose band partecipanti. Ora toccherà fare la scrematura ovviamente per i sei finalisti che arriveranno il 21 giugno in Casa Cava a sostenere la finale. La cosa bella che è stata introdotta quest'anno a mio avviso è che questo contest creerà una circolarità nella programmazione perché i primi tre classificati, coloro che si classificheranno sul podio di questo contest, suoneranno nel Gezziamoci, quindi diventeranno i nuovi protagonisti di un festival che mira a rigenerarsi a vicenda. Ovviamente non solo proposte giovanili ma ci sono anche grandissimi nomi, grandissimi artisti, giusto per parlare della fase estiva perché il festival sarà come sempre diviso in fase estiva e fase adunnale, avremo Panaglio di Sandreu, avremo Avishai Tarash, avremo musicisti anche locali che suonano da anni con musicisti di calibro altissimo e in particolare ci sarà il trio del contrabassista lucano Giuseppe Venezia con Emmet Cohen al piano. Emmet Cohen è uno dei pianisti più importanti della scena jazz moderna degli ultimi anni e pochi sanno che quasi le sue origini musicali sono avvenute in Italia perché lui uno dei primi dischi che ha registrato l'ha registrato proprio qui in Italia con musicisti italiani. Quindi quel trio ritornerà qui il 16 di agosto con questo pianista che è diventata una star assoluta della musica jazz. Non c'è Gezziamoci senza il coinvolgimento dei comuni? Sì, prosegue questa rete che abbiamo costituito l'anno scorso con circa 20 comuni e devo dire che ci sono altri comuni che stanno per entrare a far parte di questo circuito. ci sono tante tappe, il Gezziamoci è itinerante anche quest'anno e ci sarà il bel fine settimana a Stasso di Castalda, provincia di Potenza dove si inaugurerà anche uno spazio dedicato al jazz e sempre per valorizzazione dei territori, degli aspetti sia naturalistici sia degli aspetti architettonici e storici, dei centri storici ma andremo ad Aliano, andiamo a Montescaglioso, nell'abbazia Benedettino di Montescaglioso ad Accettura, insomma si sta chiudendo anche questa parte del Gezziamoci che è quasi parallela al Gezziamoci, poi quello che succede a Matera la parte estiva poi si chiuderà il 15 settembre in collaborazione con la Biennale d'Arte di Venezia su un progetto legato all'ambiente quindi ci sarà un concerto un solo sotto una delle querce degli alberi monumentali censite dai carabinieri forestali quindi sarà un'esperienza unica e intorno a Matera è stata individuata questa quercia secolare e lì si compirà un percorso di conoscenza sia della parte naturalistica e sia poi di un rapporto con la musica Quali saranno i luoghi del festival? In Matera saremo, come ho detto prima, per quanto riguarda il Contesca a Casa Capo ovviamente e poi durante la fase estiva ci sposteremo in due location bellissime che uno è il giardino dell'hotel del campo che è una location anche dal punto di vista naturalistico molto caratteristica e vi invito a venire anche se un po' defilata, decentrata da Matera mentre l'altra è la splendida terrazza della Fondazione Le Monacelle Particolarità, come sempre, del cartellone egezziamoci il concerto all'alba Sì, un evento che è diventato uno spettacolo a 360 gradi anche quest'anno ovviamente è l'ultima domenica del festival di mattina ci sarà lo splendido concerto all'alba in una location che rimane ancora una volta segreta per il pubblico ovviamente l'appuntamento sarà sempre in Piazza Matteotti non sappiamo ancora i lavori a che punto saranno per quel giorno però, diciamo, nelle zone limitrofe della stazione partiremo da lì e raggiungeremo la location per il concerto all'alba dove ci sarà Daniel Carson in un piano solo Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!